Bene, l'avversario è sicuramente di un modesto tasso tecnico, ma la domanda più importante è quanto c'è di Salernitan nel gruppo che in questo momento Calderi sia a disposizione? Chiaro il riferimento al mercato? Beh, sì. Allora, noi siamo arrivati qua circa cinque giorni fa, sei giorni fa, e abbiamo cominciato a lavorare cercando, d'accordo con la società, di tirar fuori il meglio da questo gruppo di ragazzi che era qui con noi. E devo dire che qualcosa di interessante c'è, anzi, sono molto contento per alcuni ragazzi che si stanno mettendo in evidenza. Il momento del calcio, il momento che stiamo vivendo, non è dei migliori nel senso che c'è abbastanza confusione. Credo che la società sta attendendo il momento giusto per portare avanti alcuni discorsi. C'è grande dialogo con il direttore per sapere e per vedere un po' quello che si può fare. E io, come ho detto al mio presidente, mi prenderò la responsabilità per fare delle scelte, per cercare di mettermi a disposizione, mettere a disposizione a Salerno, la maggior qualità possibile di giocatori che ritengo adatti per una piazza così. Ha fatto già alcune scelte, Calderisi? Mi riferisco naturalmente alla lista famosa della spesa. Beh, ogni giorno vedo gente che migliora, c'è grande applicazione, c'è grande voglia di fare. Hanno capito cosa vuol dire mettere questa maglia granata e c'è voglia di mettersi in evidenza. Ci sono, insomma, il greco per esempio è un ragazzo, io lo chiamo Bobo perché secondo me, mi è passato davanti, secondo me ha proprio le caratteristiche anche come atteggiamento, come postura del primo Bobo Vieri. Capozzoli è un ragazzo interessante, ho visto alcuni ragazzi interessanti anche per quanto riguarda i giovani 94-95 perché Capozzoli è un ragazzo interessante. Il brasiliano penso che per il modo in cui ho giocare può darmi delle buone soddisfazioni e poi piano piano cercherò di mettere dentro qualcos'altro. Però, entro quanto tempo, e concludo perché, ribadiamolo, è chiaro, insomma, onore al merito, 8-0, ha chiesto Galderisi l'applicazione degli schemi, la mia squadra deve essere votata all'attacco, voglio movimento senza palla, sono viste le buone soddisfazioni del gioco, è chiaro il riferimento è comunque ad uno sparring partner di modesto livello. Però, entro quanto tempo, perché durante gli allenamenti a un certo punto Galderisi, non oggi, ha detto non ho neanche i giocatori a disposizione per poter fare una partitella, è chiaro che mancano gli elementi. Adesso non mancano numericamente, ma entro quanto tempo Galderisi si aspetta gli innesti di spessore? Allora, io oggi, innanzitutto, non cercavo di vincere 7-0, 8-0, 20-0, ma cercavo esclusivamente di vedere... No, no, scusa, mister, mi riferivo a precedenti avvenimenti in allenamento, nei giorni precedenti. Sì, 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 noi cercavamo solo di mettere in pratica quelle 4-5 cose per darci un po' più di forza e per poter lavorare su quelle cose che abbiamo fatto. Ho parlato, parlo spesso, parlo tutti i giorni con il direttore per cercare di capire qual è la situazione. La società, credo che in questo momento, si è presa ancora qualche giorno per valutare quello che potrebbe in prospettiva succedere. Però si sta anche muovendo, perciò ci sono parecchie cose che si muovono, abbiamo bisogno, perché questo è un cantiere che si sta piano piano cercando di creare una base solida. Vedo che in generale non è che qualcuno è tanto avanti in tutte le categorie, dalla C1, dalla C2 o quella C che sarà, vedo che c'è grande difficoltà. Io credo che fare le cose fatte bene non serve frenesia e non bisogna correre. Non è troppo tardi, non c'è il rischio di arrivare. Che squadra faresti tu? Dipende dalla categoria. Ma la categoria si sta al 30. Che categoria ti aspetta? No, io ho scelto la Salernitana al di là della categoria, per me non è un fattore di categoria. Sono felicissimo di aver fatto questa scelta. Ho un ottimo rapporto con il mio direttore sportivo, un ottimo rapporto con la società. Spero di crearmi anche, di farmi apprezzare anche da chi non mi conosce a Salerno. Il mio impegno è quello di dare il massimo giorno dopo giorno per tirar fuori tutto quello che posso da questo gruppo e cercare di dare i miei consigli giusti per creare una squadra adatta un pochettino a quello che è la mia mentalità, a quello che è l'idea di Salerno in generale, perché giocare a Rekhi non è la stessa cosa che giocare in antistadi. Grazie a tutti.